Salve gente, outfit estivo, con ritardi o comunque attese, vabbè, non importa, comunque ora mi andava di farlo, non l'ho fatto, è un outfit che vede come must have i boyfriends jeans o girlfriends, onestamente non si capisce come vengono appellati, io ero rimasta i boyfriends, adesso si chiamano girlfriends, vabbè, comunque, questi jeans un po' morbidi, un po' strappati e partiamo, ovviamente il fantastico occhiale alla Cat Eyes, si chiamano così Cat Sunglasses o in questo caso Glasses e sono di Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, sono gli ultimi arrivati, se ne avrò il rossetto di MAC, il Lady Danger, che finalmente ho trovato a Coin, perché hanno aperto finalmente a Lecce il punto, il corner di MAC, quindi primo acquisto fatto, ora come accessorio questa collanina che ha delle biglie sia dorate che argentate, ma fanno molta luce, quindi va bene così, anche perché neri capelli, nera carnagione, quindi bisogna illuminarsi un po', anche con questi orecchini ho fatto un misto fritto, plastificati, ma va bene così, un po' anni 60 ci stanno. Questa magliettina presa da Terra Nova, è una nuova collezione, nera, ovviamente l'ho presa anche in versione rosa, ha questa parte alta in pizzo, sofisticata ma nello stesso tempo abbastanza casual, ovviamente si è abbinata con questi jeans, è un acquisto del quale vado molto fiera, veramente molto fiera, 19,90 euro in saldo su H&M, fantastici, fantastici affari, ai piedi ho un paio di sandali, un bel plateau, un tacco comodo e sono adibata, costano circa 50 euro a prezzo pieno, adesso online li ho visti e hanno un 20% circa sul prezzo iniziale, un tennis nero, tranquillissimo, niente di che, chi ci sta, e niente la maxi bag, che, vabbè, non è proprio da sera ma non mi interessa nulla, io la porto, e questo è fatto, penso di non aver dimenticato nulla, il cervello forse, quello se, e mi auguro di poter registrare altri video outfit a breve, però sai, non sempre si ha l'ispirazione per farlo, quando mi viene lo faccio, e in questo momento mi è venuta e l'ho fatta, ciao, 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 gente!